Fabian Arriviamo poco a poco, devo riprendere un po' la fiducia che avevo da Filipe Island Era un po' difficile all'inizio di questo turno con il caldo Che cambiano un po' le cose, soprattutto sul davanti Però poco a poco ho preso il ritmo, il feeling E poi ho fatto un ultimo giro abbastanza buono Senza fare cazzare Siamo tutti contenti e speriamo di fare domani lo stesso